La spesa da iperfogli e iperorbella è ancora più libero, iper davvero, merito dell'iperconvenienza con iperbuono, 15 ipercette su tutta la spesa dal 17 al 23 maggio, basta fare una spesa minima di 60, per avere subito un iperbuono del 20% del valore del vostro vino, utilizzabile da 24 a 30 maggio, iperbuono per la spesa, iperbuono, iperfogli e iperorbella per la tua iperconvenienza quotidiana, dal 17 al 23 maggio.